Eccoci qua, buongiorno a tutti. Nel scorso video abbiamo parlato dell'Advocate come ottimo antiparassitario da utilizzare come spot on, efficace per molti di quelli che sono i parassiti interni e quelli che sono i parassiti esterni, tranne le zecche. Noi lo consigliamo nel periodo invernale, ovviamente sempre dietro prescrizione di ricetta medico-veterinaria, nel periodo invernale perché non è efficace come dicevo per le zecche, invece sono molto fastidiose nel periodo specialmente estivo e primaverile, poi con il pelo del barboncino insomma quando noi lo portiamo fuori si raccatta un po' di tutto, quindi l'Advocate magari non mi sento di consigliarlo nel periodo primaverile ed estivo, però nel periodo autunnale e invernale assolutamente sì, anche perché oltre ad essere efficace come dicevo per i più comuni endoparassiti e ectoparassiti è efficace per gli strongili polmonari. Gli strongili polmonari sono dei parassiti veramente molto subdoli, non facili da individuare, bisogna fare un test specifico nelle fesce che va ripetuto per tre giorni consecutivamente e gli strongili polmonari possono dare vita a delle tossi molto persistenti e possono essere scambiate in infezioni batterico-virali, però invece sono loro la causa, quindi è importante diciamo fare quello che possiamo chiamare una prevenzione con un trattamento antiparassitario adeguato e l'Advocate è molto efficace in questo. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.